Grazie, io non sono segretario generale dell'USB perché l'USB non è il segretario generale, abbiamo una struttura orizzontale a tutti i livelli, dal livello aziendale fino al livello confederale, è una scelta che abbiamo fatto alla nostra Costituzione proprio perché pensiamo che il sindacato debba avere una struttura il più possibile vicina ai luoghi della produzione, e quindi non l'abbiamo fatto. Poi abbiamo un esecutivo nazionale un po' ampio che consenta a tutti i compagni di essere un po' dappertutto. Tanto vi ringrazio per l'invito, a me sembra che il convegno che avete convocato individua bene la prospettiva di dissoluzione del quadro costituzionale che noi abbiamo conosciuto e è stato costruito dal dopoguerra e nella seconda metà del Novecento. Quindi è molto molto utile perché noi ci troviamo come organizzazione sindacale confederale e generale di fronte alla necessità di dover affrontare questa questione con un occhio rivolto non solo a quanto questo produrrà sulle regioni che oggi sono state molto ben descritte fino ad ora, quelle che subiranno in qualche modo gli effetti dell'autonomia differenziata, ma come noi possiamo riuscire a mantenere un livello unitario del movimento dei lavoratori, di contrapposizione a questa autonomia differenziata. Cioè la percezione che abbiamo è che per esempio i professori del Nord o i lavoratori del Nord immaginano che hanno da guadagnare da questa autonomia differenziata, pensano che tutto sommato ben venga perché noi alla fine non ci mettiamo ma ci guadagniamo. Io credo che questa cosa sia molto complessa da realizzare e che c'è bisogno di andare un po' in profondità. Io credo che noi dobbiamo rileggere un po'. Cioè la questione del Nord-Sud convince, ma convince fino a un certo punto. Cioè c'è un Nord-Sud anche all'interno dell'Europa, anzi dell'Unione Europea. È un Nord-Sud che è costruito intorno al blocco forte dell'Unione Europea. Se andiamo a vedere negli ultimi cinque anni Spagna, Italia, Irlanda, Portogallo, Grecia hanno perso 6 milioni di occupati, la Germania ne ha guadagnato un milione e mezzo. Cioè dentro una fase di crisi sistemica, chi ha guadagnato è stato il blocco forte dell'Europa. Ed è lì che guardano le regioni che si propongono come alfieri dell'autonomia differenziata. Cioè a raggiungere quei livelli produttivi, quei livelli di capacità di fare tesoro del mercato interno. Quindi anche di utilizzare quello che, la questione meridionale bisognerebbe rileggerla come carattere originario della Costituzione dello Stato italiano. Con un meridione che era colonia interna, che era riserva di mano d'opera, che era la migrazione interna, che consentiva di sfruttare risorse in mano d'opera per il nord. Stessa roba oggi la vediamo all'interno della questione Europa. C'è un problema quindi di leggere anche la questione della regionalizzazione come un processo di lotta di classe, un processo di lotta di classe che non si definisce unicamente sul piano interno. La lotta di classe che, appunto dicevo prima, fatica a trovare elementi di unità, se non all'interno di un processo che noi dobbiamo rimettere in sesto. Perché c'è anche una... diciamo così, i lavoratori del nord sono stati per molto tempo a ristocrazia operaia. Avevano una condizione diversa che poi con la fine del fordismo si è andata modificando. I lavoratori del nord hanno perso pezzi di benessere che avevano conquistato sicuramente maggiori dei lavoratori del meridione. Questo ha prodotto anche all'interno della classe processi di identificazione con quell'egoismo sociale che oggi determina una condivisione anche abbastanza larga nel corpo della classe di ipotesi come quelle che sostiene la Lega. Quindi il nostro compito è quello di cercare di trovare le chiavi per rimettere assieme gli interessi generali della classe rispetto a quello che invece si fa come tentativo, come operazione di schierare il mondo del lavoro del nord a fianco degli interessi della borghesia del nord e degli interessi economici del nord rompendo così quegli elementi che non sono solitarietà ma consapevolezza di uguali interessi di classe che dovrebbero tenere assieme i lavoratori del nord e i lavoratori del sud. Questo processo che sembra inarrestabile e che ha tutte quelle caratteristiche che sono state spiegate benissimo fino ad ora e penso anche dopo che io mi auguro che ci saranno degli atti di questo convegno che sia possibile metterli a disposizione perché c'è molte cose interessanti che vanno a mandare. Il problema per noi del sindacato è capire come questo processo interviene direttamente sul mondo del lavoro cosa produce in quanto cambiamenti importanti. Io credo che noi abbiamo dato, noi, il movimento sindacale italiano in questi anni ha dato un sostanziale contributo a che fosse più facile smantellare tutto ciò che è smantellabile. Lo dico dietro la sede della Camera del lavoro della CGL, non me ne vogliano, ma io credo che ci sia una responsabilità importante nell'avere disarmato il movimento dei lavoratori di alcuni strumenti storici e fondamentali. Oggi a Roma c'è una manifestazione della funzione pubblica sia CGL che CISL e UIL che rivendicano giustamente i servizi pubblici. Io sono stato rimasto un po' perplesso perché quando si introduce il welfare aziendale nei contratti di categoria, quando si favorisce la nascita dei fondi pensione non come strumento collaterale, ma così contribuendo un po' allo smantellamento della previdenza pubblica per far crescere la previdenza privata, quando si introduce la questione delle assicurazioni sanitarie che debbono in qualche modo provare a risolvere quella difficoltà che il Servizio Sanitario Nazionale ha oggi perché volutamente messo in crisi da un trasferimento di fondi alle autonomie locali, sempre più ristretto, fatto sui costi standard, eccetera, Io credo che si introduca anche all'interno della classe una modalità, una percezione di ineluttabilità di quanto accade che rende molto più difficile chiamare alla lotta e alla mobilitazione quando poi l'avversario di classe fa l'affondo, quando l'avversario di classe, come in questo caso, come con l'autonomia differenziata, va a produrre una trasformazione così profonda. In particolar modo io credo che la questione degli assetti contrattuali sarà una questione molto seria che noi dovremo affrontare. Oggi nessuno fa mistero della volontà di avere a propria disposizione nelle regioni strumenti ad hoc di governo del lavoro, dei processi occupazionali, dei processi negoziali, dei processi economici e quindi salariali dei lavoratori. Sappiamo che il lavoro gratuito è stato sperimentato in questa regione con l'Expo. Non è una cosina da poco che è la stessa Lombardia che ha fatto l'Expo con quelle caratteristiche che oggi chiede di avere in qualche modo mano libera sul piano contrattuale, sul piano salariale, sul piano delle regole del reclutamento dei lavoratori, così come la questione della scuola o del Servizio Sanitario Nazionale. La questione della scuola è molto importante, è molto importante perché è ormai chiaro che il padronato italiano che qui ha, qui e nelle regioni che più di anni altri chiedono il federalismo aumentato, che qui hanno sede in maniera fisica, chiedono la scuola delle competenze. Cioè una scuola che torna indietro rispetto alla funzione che la scuola deve avere perché sia una scuola che forma sugli interessi di impresa, che forma ad essere utilizzabile, gestibile in fretta e furia con quelle competenze professionali che oggi servono al mercato, che vengono definite di volta in volta quando l'impresa stabilisce qual è il suo obiettivo, qual è il suo core business e lì va fatta la formazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi. E questo vuol dire anche definire una volta per tutte che la scuola, l'insegnamento, la formazione non è formazione che deve produrre capacità nei nostri ragazzi ma deve essere semplicemente e immediatamente utilizzabile e sfruttabile a livello di imprese. Il Servizio Sanitario Nazionale l'abbiamo visto, noi viviamo una condizione in molte regioni d'Italia di assoluta inadeguatezza, anche se il nostro sistema sanitario viene rappresentato come uno dei migliori al mondo. Questo sistema sanitario che viene rappresentato come uno dei migliori al mondo ha dei livelli di garanzia e tutela delle prestazioni assolutamente insufficienti in molta parte del Paese e con una riduzione di posti letto e di personale che oggi è impressionante. A oggi è impressionante. Voi immaginate che noi abbiamo, quando programmiamo lo sciopero nella sanità, ci chiedono livelli di presenza di personale sanitario negli ospedali superiore a quello che è quotidianamente in forza nelle corsie. Se noi programmiamo lo sciopero, ci chiedono 10 infermieri e normalmente tutti i giorni in quella corsia ce ne sono 6, ce ne sono 7, perché le scoperture organiche sono talmente alte che non riescono neanche a coprire. Io credo che noi oggi abbiamo un problema molto serio. Quello di avviare un percorso immediato e senza sconti del movimento operario e del movimento dei lavoratori contro il federalismo aumentato. Senza sconti, perché non c'è la possibilità di mediazione rispetto a un progetto del genere. Qualsiasi mediazione, qualsiasi concessione, da un punto di vista della classica modalità italiana di provare a mettere di norma quelle cose che facciamo quando facciamo le trattative sindacali in cui per cercare di mediare, non fare in modo che sia tutto così immediatamente diretto, si usa, beh io che questa volta non ci sia alcuna possibilità da parte di nessuno per almeno per chi vuole continuare ad avere una funzione confederale e generale di pur elementi di ambiguità rispetto a questa questione. Credo quindi che avremo molto da fare, quello che più avremo da fare probabilmente sarà nei confronti del movimento dei lavoratori del nord, perché mentre al sud stiamo già costruendo mobilitazioni, momenti di forte contrasto al federalismo aumentato, siamo ancora nella fase invece di spiegazione, di dare elementi di riflessione ai lavoratori del nord su quella che può essere malamente interpretato come un passaggio per loro favore e che invece sicuramente non lo è. In questo tutte le iniziative di maggiore chiarificazione, di analisi, di inchiesta sulla questione del federalismo aumentato per noi sono assolutamente indispensabili e vi ringraziamo per il vostro contributo. Grazie.